Annalisa al concerto di radio DJ in coppia con Tananai, sfoggia un look perfetto per l'estate 2024, la sorpresa. Storie brevi si candida a diventare il tormentone estivo più amato da grandi e piccini. La coppia formata da Annalisa e Tananai, due degli interpreti più amati e seguiti nell'attuale panorama discografico nostrano, hanno sfornato una hit che da una settimana a questa parte, non riusciamo a mettere di ascoltare. I due hanno sganciato un'anteprima durante le registrazioni di Battiti Live, lo show che andrà in onda su Canale 5 a breve. Giovedì scorso, il brano è stato interamente pubblicato. Parla di come oggi sia estremamente difficile instaurare una storia duratura, e che tutti si soffermano sull'attimo, e su qualcosa di superficiale e poco consistente. I due colleghi si sono definiti sottoni, ma la loro vita sentimentale è florida e con i loro compagni, hanno davvero costruito qualcosa di importante. Detto questo, sono spuntate sui social le prime immagini dell'esibizione di ieri. Annalisa, tra le più chiacchierate presunte co-conduttrici del prossimo Sanremo, come sempre si è distinta mostrando poi sul suo profilo Instagram, la chicca nel look che ha sfoggiato in coppia su Tananai. Annalisa e il look scintillante per l'estate con Tananai. Il sotto giacca è la vera sorpresa. La cantante ligure è sempre coerente con i suoi look. Ieri sera però ha cambiato completamente concept per cantare storie brevi con Tananai al concerto di radio DJ. Ha abbandonato il nero, quasi filo conduttore nelle sue esibizioni da quando è diventata una delle regine del pop indiscusse. Ha optato per una giacca in jeans tempestata di brillantini. Un'idea vincente per l'estate. Il chiaro del lavaggio e la luminosità delle applicazioni, rendono l'outfit perfetto per le prime serate estive, quando la bronzatura comincia a farsi vedere e le temperature calano a fine giornata. L'interprete di Mona Moore riporta in auge la moda anni 2000 con gli stivali che ha scelto, bianchi in vernice e con la zeppa altissima. Per i più esperti, un richiamo alle amatissime bambole Bratz. Annalisa sul suo profilo Instagram con una storia, ha decisamente alzato la temperatura. Ha mostrato infatti il sottogiacca, un reggiseno gioiello completamente tempestato di mini cristalli che richiamano quelli presenti sulla giacca. Questa chicca è perfetta per un aperitivo in spiaggia, quando la giornata al mare è terminata e ci si prepara a un cocktail gustoso in piacevole compagnia. La luminosità dei brillantini rende il tutto estremamente glamour e di tendenza e si adatta anche a una serata in discoteca, oppure a una cena con musica dal vivo. Segnate tutto e lasciatevi ispirare da un'icona di stile che non ne sbaglia una, anche stavolta ha fatto centro.